Rispetto a marzo, nel mese di aprile 2021, l'Istat registra un lieve aumento degli occupati e una crescita più consistente dei disoccupati a fronte di una diminuzione degli attivi. La crescita dell'occupazione, più 0,1%, pari a più 20.000 unità, coinvolge le donne, i dipendenti a termine e i minori di 35 anni. Diminuiscono invece gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e gli ultra 35 anni. Il tasso di occupazione sale al 56,9%. L'aumento del numero di persone in cerche di lavoro, più 3,4% rispetto a marzo, pari a più 88.000 unità, riguarda entrambe le componenti di genere e tutte le classi di età. Il tasso di disoccupazione sale al 10,7%, tra i giovani scende al 33,7%. Le stime preliminari dell'Istat dicono che nel mese di maggio 2021 l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'intera Collettività, NIC, all'ordo dei tabacchi è stabile rispetto al mese di aprile e in aumento rispetto a maggio 2020 dell'1,3%. L'accelerazione tendenziale dell'inflazione è dovuta principalmente ai prezzi dei beni energetici, il cui aumento è pari al 4% da aprile a maggio. I prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona calano dello 0,1%. L'inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi resta stabile allo 0,3%. L'inflazione acquisita per il 2021 è al più 1,2% per l'Indice Generale e al più 0,6% per la componente di fondo. Mai così vuote dallo scorso autunno, le terapie intensive italiane si svuotano di pazienti positivi al Covid-19, i quali occupano ora solo il 12% del totale dei posti disponibili sul territorio nazionale. La soglia di saturazione dei reparti di terapia intensiva che fa scattare l'allerta è pari al 30%, dunque tutte le regioni dello stivale possono dirsi fuori dalla fase critica data dall'eccessivo stress sulle strutture sanitarie. Anche i letti occupati da pazienti Covid nei reparti ordinari calano all'11%, allontanandosi dalla soglia d'allarme di quasi 30 punti percentuali. Si tratta dei dati più bassi registrati dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, dall'inizio del monitoraggio, avvenuto a novembre 2020. Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha espresso la sua opinione in merito alla situazione economica italiana, sottolineando che una volta avvenuta meno l'attuale politica macroeconomica straordinaria ed eccezionale, che prevede il blocco dei licenziamenti, le garanzie statali sui prestiti, la proroga delle moratorie sui debiti, ci si dovrà impegnare a ridurre il fardello del debito pubblico sull'economia. Per questo motivo, secondo il governatore di Banca Italia, si dovrà essere pronti ai cambiamenti e agli sviluppi inattesi, soprattutto in vista dell'attuazione del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza, che sarà una formidabile sfida. La riflessione di Visco si conclude con una nota positiva, poiché il governatore ipotizza un'espansione del PIL superiore al 4%.